Ciao ragazzi, benvenuti qui sul mio terzo canale in realtà, si chiama Menzo Secondo ma è il terzo canale. Su questo canale io sono sempre stato abituato a ricaricare le live che magari tanti utenti non riescono a seguire quando le faccio sul sito Viola, su Twitch. Però vorrei utilizzarlo anche per dei contenuti diversi in realtà dai temi che solitamente tratto, ovvero sportivi, calcio, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe anche dedicarlo ad alcuni pensieri che ho durante le mie giornate. Ho la fortuna di avere un po' di pubblico che mi ascolta, ho la fortuna perché così possiamo discutere magari sotto nei commenti. E quest'oggi, dopo un po' di tempo dalla notizia, mi son sentito di voler parlare con voi di una mia grande passione. Io sono un grande amante della musica. Quando mi chiedete qual è il mio genere preferito, io non ho un genere preferito. Io ascolto tutto, io non ho pregiudizi, ascolto, poi giudico. Se non mi piace, non ascolto. Se mi piace, continuo ad ascoltare fino alla morte. Sicuramente se mi chiedete, anche perché effettivamente, quando qualcuno mi chiede qual è il tuo gruppo preferito, quali sono i tuoi gruppi preferiti, il tuo cantante preferito, io ho una conoscenza musicale importante, nel senso che veramente, oddio, non sono un conoscitore della musica, non volevo dire quello. Ascolto talmente tante cose che posso esprimere pareri su tanti generi e tanti artisti. Vi basti pensare a, quando mi chiedete veramente qual è il mio gruppo preferito, il mio gruppo preferito sono i Linkin Park, e questo video chiaramente è dedicato ai Linkin Park, ma ne andremo a parlare. Ma subito dopo abbiamo di tutto, passando dai Bring Me The Horizon, passando dai Man For Dance On, che sono, non so, folk, country, si va ai Codaline, che sono un gruppo indie, stromai o stromè, che è un artista, un genio, che purtroppo in questi ultimi periodi sta avendo tantissimi problemi di salute, per quanto riguarda l'Italia, a me piace zucchero, ma veramente posso svariare in tantissimi generi. Però, appunto, il mio gruppo preferito sono sempre stati Linkin Park. Io sono cresciuto con Linkin Park. Io sono del 94, e sono cresciuto più che altro con Meteora, e con un pochettino di Hybrid Theory, ma veramente, veramente poco. Hybrid Theory l'ho recuperato successivamente. Io sono proprio cresciuto con Meteora, sono cresciuto con Don't Stay, sono cresciuto con Feint, che è tuttora la mia canzone preferita di sempre. Sono cresciuto con Numb, sono cresciuto con Breaking The Habit, sono cresciuto con Nobody's Listening, canzone che non viene mai nominata, non viene mai calcolata, ma che a me piace da morire. Sono cresciuto con Meteora. Non c'è niente da fare. Poi, chiaramente, con l'adolescenza, vi dico la verità, un pochettino Linkin Park li ho persi, ma semplicemente perché quando guardavo i programmi di musica non venivano trasmessi, non avevo ancora la possibilità di ascoltare, magari con internet o tramite, in questo momento Spotify, tutti gli album. Non riuscivo a restare aggiornato. Crescendo, chiaramente, poi ho recuperato tutto e tuttora, chiaramente, apprezzo da morire i Linkin Park. È solo il mio gruppo preferito, non c'è niente da fare. I Linkin Park ho sempre ammirato, a parte le enormi qualità di tutto il gruppo. Io non sono d'accordo con chi critica Mike. Secondo me Mike è un grande artista, un artista che ha prodotto, praticamente tutti i lavori del Linkin Park, con una grande visione, con grandi qualità. Poi sicuramente qualcosina è riuscito meno di altro, però è sicuramente un grande Mike. La qualità di Chester è senza dubbio indiscutibile. Chester è tuttora uno dei migliori frontman di sempre per presenza, ma per qualità. Io non sono un vocal coach, ma non serve un vocal coach per capire quanto cazzo fosse incredibile Chester. In tutto. Le Linkin Park ho sempre ammirato la volontà di sperimentare, perché se io ultimamente con i nuovi fatti ho ripreso tutta la discografia di Linkin Park, se volete ripartire proprio da Hybrid Theory, c'è proprio una trasformazione, un cambiamento, la volontà di provare tanti generi nuovi. E io questo l'ho sempre apprezzato. Non sono uno di quelli, proprio per farvi capire la mia apertura mentale, non sono uno di quelli che, essendo nato con Meteora, ha allora One More Light fa schifo. Io ascolto, come detto, se mi piace, bene, se non mi piace, pace. Non è che dico Ah no, questi non sono i Linkin Park! Chi conosce Linkin Park sa quanto abbiano sperimentato. La sperimentazione c'è già in Minutes to Midnight. C'è già nel terzo album la sperimentazione. C'è un triello di canzoni, Valentine's Day, In Between, In Pieces, non mi ricordo se l'ordine è questo, che se lo rapportiamo a Meteora o a Hybrid Theory sembrano passati vent'anni da quei due album. E invece a Minutes to Midnight è il terzo album. Ho sempre apprezzato questo ai Linkin Park e non avendo pregiudizi sono riuscito a viverla bene. Sono riuscito a vivere bene la trasformazione dei Linkin Park. Sono riuscito a vivere bene l'arrivo di Minutes, di One More Light, scusatemi. Poi, non sono stupido, mi rendo conto che One More Light è un progetto più fiacco rispetto alle precedenti produzioni. Ma io lì ho alcune delle mie canzoni, non dico preferite, ma di quelle che mi porto dentro tuttora. Battle Symphony a me fa impazzire letteralmente. Poi ci sono degli elementi che magari non tutti possono apprezzare. Ma mi rendo conto che il cambiamento è netto. Il cambiamento è veramente, veramente netto. hanno voluto esagerare, nel senso hanno voluto provare qualcosa di spinto, ma al contrario, mi capite? Diciamo che sono convinto che se fossero andati avanti dopo One More Light si sarebbe passato a qualcosa più verso le origini. Ma i Linkin Park potevano far questo, secondo me, ed è per questo che li ho apprezzati. Io non ho vissuto One More Light male. Anzi, l'ho vissuta bene. Mi rendo conto che ci sono delle canzoni che andrebbero bene per magari le sigle dei cartoni animati o delle favole. Però comunque l'ho apprezzato. E li aspettavo tanto. Li aspettavo talmente tanto che io sono stato uno di quei pochi, in realtà tanti, fortunati che hanno avuto la possibilità di vederli dal vivo a Milano. A Milano in quel concerto dove prima c'erano i Sun 41, poi i Blink 182, poi i Linkin Park. E prima dei Sun 41 c'erano... Oh mio Dio, com'è che si chiamano? Aspetta perché ce l'ho qui, eh? Madonna mia. Ah no, ma adesso ve lo dico, eh? Assolutamente. Non capisco perché non mi venga... Eh, no, chi è? No, non è lui. Dai! Oh, Nothing But Thieves. Prima dei Sun 41 c'erano Nothing But Thieves, ragazzi. Che non mi dispiacciono per niente. Sono stato uno di quei pochi, dei tanti, ma pochi forse che sono riusciti a vederli live e ho realizzato un sogno. Parca miseria. Ho realizzato veramente, veramente un sogno. Chiaramente non ero conscio di quello che poi sarebbe successo. Ecco. Mi vengono i brividi a parlarne. Io quel momento non l'ho superato, ragazzi. Io non ho mai digerito la morte di Chester. Per quello che volevo fare questo video, io mi sentivo che volevo parlarne a cuore aperto. Ci sono tante morti magari di personaggi famosi a cui sei legato, anche a familiari magari. amici, conoscenti, che magari riesci a superare, che magari riesci a viverle con più naturalezza, che magari riesci a metabolizzare. Io la morte di Chester dopo sette anni non l'ho ancora metabolizzata. Io se adesso penso a Chester, guardo i live, per me lui c'è ancora. Per me lui è ancora qui in pensione. In pensione. Che guarda quello che succede. Non riesco a capire come fosse possibile. Come sia possibile quello che è accaduto. Non ce la faccio. Cioè, non... Non so se è perché è collegato a quanto stracasto fosse enorme artisticamente parlando. Non so perché. Non so perché ho tanti ricordi, tanti minuti passati ad ascoltarlo. Non so perché ho tutti i live possibili, immaginabili, visti. Non so perché succede questo, è successo quello che sta succedendo questo, ma io la morte di Chester non l'ho ancora metabolizzata. Non la metabolizzerò perché se non l'ho metabolizzata dopo sette anni non potrò non potrò farlo, credo. Per me è folle Chester. Per me è incredibile. Quello che sapeva fare in pochi, secondo me. L'urlo di given up per poi subito riprendere a cantare come un usignolo stratosferico. Ma anche one step closer, ma anche faint. di tutto di più, di tutto di più, la potenza, ma non solo la rabbia, il dolore che metteva nelle canzoni, ma anche la dolcezza che si è visto soprattutto con One More Light. Era una persona profonda, talmente profonda che alcune parti della sua mente non sono state raggiunte dagli affetti dagli amici e non è riuscito a mettere ordine per tutto il suo passato nella sua testa ed è un peccato. È un peccato perché era circondato da grandi persone secondo me. Ma non mi voglio adentrare in questo discorso perché non l'ho vissuto. Non l'ho vissuta come situazione quindi non so dirvi bene come funziona però sta di fatto che io non l'ho metabolizzata. Guardo i live ancora adesso e io vorrei che ci fosse ancora. Quanto mi manca quanto vorrei un nuovo progetto Linkin Park con CEST. Io lo spero ancora è quello il problema. Io ci credo ancora ma so che non avverrà. E negli ultimi mesi c'è stata la riunione dei Linkin Park e allora qui si apre un altro mondo perché si parlava addirittura che il nuovo frontman dei Linkin Park potesse essere Derrick il cantante dei San 41 cosa che non avrei apprezzato più di tanto devo essere sincero. Ecco siamo d'accordo tutti sul fatto che Cester sia insostituibile e imparagonabile chiunque fosse andato al suo posto sarebbe stato un un pupazzo con il quale avremmo fatto costantemente dei confronti. Io un giorno ho pensato che mi sarebbe piaciuto non so perché lasciamo stare sono praticamente sono dei generi diversi ma mi sarebbe piaciuto vedere il cantante di Falling in Reverse non so come mai non so come mai se non li conoscete provate ad andare ad ascoltare ma probabilmente non ci sta neanche bene ma mi sarebbe piaciuto perché secondo me il cantante di Falling in Reverse è bravo non sono un vocal coach ma secondo me è bravo però comunque in generale io sono contento che Linkin Park siano tornati avevo bisogno di nuovi Linkin Park avevo bisogno di canzoni di Linkin Park e sono d'accordo sulla scelta fatta io Emily Armstrong non la conoscevo non sapevo chi fosse assolutamente ma il fatto di aver messo una voce femminile secondo me cambia le cose io quando ascolto le nuove canzoni io sento e dopo comunque andiamo a parlare un pochettino più nella nella precisione io sento i Linkin Park ragazzi io sento i Linkin Park ed è chiaro che si facciano comunque i confronti tra Chester e Emily Armstrong è chiaro che se andate su TikTok trovate le canzoni del Linkin Park e cantate dall'intelligenza artificiale con la voce di Chester ok piango quando ascolto quelle canzoni perché con le cazzo di nuove canzoni Chester le avrebbe spaccate le avrei volute ascoltare da lui ma non per questo io critico Emily no io la sto accogliendo io la accolgo per me è brava per me è brava e lasciate perdere il primo live di presentazione dove era visibilmente emozionata dove ha faticato non mi interessa si sente che Emily è brava l'unico piccolo difetto che secondo me è quello proprio rimane collegato all'emozione è che a volte alcune parti importanti delle canzoni le fa cantare al pubblico è bella l'interazione col pubblico ma certe parti io mi ricordo un live dove dove Chester nella parte di Faint I Won't Be Ignored non la cantò e la fece cantare al pubblico io quelle cose lì non le sopporto non le sopporto le parti focali delle canzoni devi cantarle e poi il pubblico canta il resto però a parte questo io sono contento di quello che sta facendo Linkin Park io sono contento di Emily mi sembra che il gruppo è cambiato anche il batterista era un pelo era un baffo è cambiato anche il batterista sono cambiati Linkin Park però abbiamo ancora Han abbiamo ancora Mike anche il chitarrista è cambiato però quello di vecchia data rimane diciamo dietro le quinte produce insomma sono cambiati il tempo passa ci si evolve è successo quello che è successo ma io sono contento di riavere Linkin Park non sono d'accordo con chi dice che i Linkin Park sono morti con Chester perché i Linkin Park nascono senza Chester è vero che i Linkin Park che abbiamo conosciuto sono con Chester però era giusto secondo me che Mike decidesse visto che è uno dei creatori del gruppo possiamo dire così si sta portando avanti l'idea di Mike con altri componenti con i vecchi componenti ma anche con i nuovi componenti e secondo me il progetto al momento è positivo ci sono sono usciti tre singoli Emptiness Machine quando è stata presentata ragazzi per me Emptiness Machine è una fottuta bomba fottuta bomba mi piace mi piace è fottutamente Linkin Park giusta spinta giusta potenza bello il fatto che parta solamente con Mike e poi arrivi Emily bello anche nel live che parte solo Mike e poi arriva Emily come per lasciare lo spazio Mike e quasi anche come se ci fosse Cester e poi venga appunto non sostituito ma venga accompagnato da Emily Heavy is the crown ragazzi è una bomba io faccio fatica cioè se tu mi chiedessi quale preferisci io forse potrei dirti Heavy is the crown perché perché Heavy is the crown è pura potenza la parte rap di Mike secondo me è devastante si vede che cazzo Mike è tornato a divertirsi con questo lavoro si vede che Mike è tornato a divertirsi la parte rap di Mike è una bomba poi il cantato di Emily è tanta roba anche live anche live è tornato lo scream lungo pura potenza mi piace e adesso è uscito un nuovo singolo dei Linkin Park io ho l'album presalvato credo mi prenderò anche il il vinile è uscita Over Each Other e già piovono le critiche cioè è incredibile è incredibile gli stessi che criticavano i Linkin Park dopo l'uscita di One More Light dopo Over Each Other sono risboccati fuori cioè non hanno capito niente non hanno capito un cazzo è una roba folle questa dopo tutti questi anni dopo tutto quello che è successo non avete ancora capito niente non avete ancora capito nulla critiche piovute merda su Linkin Park dopo One More Light e la stessa merda adesso dopo Over Each Other dopo due Emptiness Machine dopo Heavy is the Crown la stessa merda piovuta su Linkin Park dopo una storia scritta per One More Light la stessa merda sta accadendo adesso per Over Each Other perché perché è morbida no 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 non ci siamo dopo Emptiness Machine ma nascete adesso non so probabilmente solo in Hybrid Theory non c'è il pezzo un pochettino più sciolto in ogni album nel Linkin Park c'è un pezzo sciolto a me Over Each Other piace perché perché non ho non ho pregiudizi questa gente qua giudica il lavoro per quello che è successo prima a me Over Each Other piace come canzone non mi interessa se sono i Linkin Park che cantavano ad Emptiness Machine o Heavy is the Crown a farla a me piace me la sto ascoltando in continuazione in loop bisogna essere sinceri perché io vi dico tutto con estrema sincerità è chiaramente un pezzo dove secondo me si poteva usare qualcosina di più perché per esempio si poteva spingere ma non in termini di vocali in termini proprio generali come viene accompagnata la canzone dall'inizio alla fine con gli strumenti ok mi è capitato dopo un ascolto di Over Each Other di ascoltare successivamente Castle of Glass Castle of Glass è proprio una crescita costante quando arrivi all'ultimo ritornello hai i brividi secondo me si poteva accompagnare in questa maniera Over Each Other ma non per questo che merda che merda tra l'altro non so se vi siete accorti accorti scusate alla fine di Over Each Other Over Each Other si sente Mike che dice get your screamy pants on mi sembra mettiti rimettiti i tuoi pantaloni urlanti perché perché dopo c'è casual casualty ok che ha detta dei Linkin Park stessi in un'intervista quella è la canzone più pesante dell'album quindi anche sopra Heavy's The Crown vediamo se riusciamo a farlo sentire get your screamy pants on get your screamy pants on sono curioso cioè a detta del nuovo batterista che non mi ricordo come si chiama Brady non me lo ricordo scusatemi questo album qui sarà pesante sarà pesante e non mi starai a fossilizzare su Over Each Other sinceramente anche perché io ho l'impressione che questo sia stato un pezzo non tanto creato dai Linkin Park io questo mi sa tanto un pezzo da Emily no quasi per darle la scena per dare importanza anche il video è molto molto spinto da quel punto di vista è possibile anche che questa fosse una canzone di Emily riadattata in stile Linkin Park l'unica cosa che non mi fa impazzire di quello che vedo è la quantità di di brani io sono uno da 12 13 brani ad album quindi spero che sia bello spinto anche perché qui abbiamo poi un intro from zero sono curioso io non non vedo l'ora non vedo l'ora ma gli aspettavo talmente tanto che sono 10 1 2 allora c'è good things go un'altra 2 steined 3 two phased 4 overflow 5 casualty 6 7 8 over each other having the crown 9 cut the bridge 10 emptiness machine poi c'è from zero che è la intro avrei voluto qualcosina di più ma semplicemente forse perché the emptiness machine having the crown li sto scordando talmente tanto che saranno nella top spotify dell'anno diciamo così mancano 17 ore 14 16 giorni scusatemi 14 ore 21 minuti e 23 secondi 22 21 questo per dirvi ragazzi che io sono contentissimo del nuovo ciclo del Linkin Park ne avevo bisogno li sento li sento è quello il fatto ragazzi io li sento io sento Linkin Park potevano cambiare nome sono mordi con Chester con Emily dovevano cambiare nomi per me è stato il giusto compromesso una voce femminile crea qualcosa di nuovo questo è un nuovo ciclo del Linkin Park e io lo sto prendendo tutto in faccia in pieno nelle orecchie la Giulia non ce la fa più io ascolto The Emptiness Machine in continuazione non mi stanca non mi stufa ascolto Heavy's The Crown quel cazzo di scream di 15-17 secondi provo a farlo e mi spacco perché io chiaramente non so cantare mi gasa mi ricordo di quando ero ragazzo e urlavo faint davanti allo specchio che spettacolo sono tornato a quando ero veramente giovane all'ascoltare Linkin Park non c'è Chester ma Chester c'è sempre Chester c'è sempre questi Linkin Park hanno Chester dentro hanno Chester dentro poi è chiaro che qual è il problema me ne rendo conto anch'io non sono uno stupido le canzoni live create su misura su Chester cantate da Chester rimbombano nelle nostre menti quando le ascoltiamo cantate da Emily è chiaro che non siamo totalmente soddisfatti lo capisco che dobbiamo fare a meno che non volete più sentirle quelle canzoni live di Linkin Park chiaro che non credo si possa fare così però in generale io accetto non accetto la morte di Chester questo è chiaro ma accetto la trasformazione ok accetto il nuovo ciclo lo accetto lo volevo lo desideravo e va bene così me lo prendo me lo prendo perché ne avevo assolutamente bisogno mi sono trascinato oltre ma voleva proprio essere una un discorso una chiacchiera con voi amici quindi mi piacerebbe probabilmente questo video non lo commenterà nessuno fatemi sapere la vostra ok vediamo la prossima ciao ragazzi ah no non voglio chiudere volevo sapere da voi quali sono le vostre canzoni preferite di Linkin Park perché ci sono tantissime canzoni secondo me che sono sottovalutate che non vengono prese in considerazione Hybrid Theory partendo proprio da Hybrid Theory a me piace chiaramente One Step Closer se dovessi io sono sincero se dovessi fare una top 5 una top 10 di Linkin Park a me piace tanto Points of Authority passando passando a Meteora un album che parte con Don't Stay a metà a Feint e chiude con Numb Meteora è tutto completamente un album clamoroso però in generale passando anche agli altri album a me per esempio In Pieces mi piace tanto Given Up mi piace tantissimo mi piace Powerless secondo me è tanto tanto sottovalutata da Powerless Castle of Glass ma una delle mie canzoni preferite di Linkin Park è Iridescent sottovalutatissima Leave Out All The Rest madonna ragazzi quanta roba quanta roba però le nuove canzoni uscite mi gasano mi piacciono fatemi sapere le vostre dai ci vediamo alla prossima ciao ragazzi